In un mondo che cambia e si prepara a nuove sfide, noi crediamo che la Terra sia tonda. Ma se dovesse appiattirsi, statene certi, saremo i primi ad informarti. Noi ci crediamo. E voi? Rai Radio 1. La tua informazione sempre. Noi crediamo che la Terra sia tonda. Ma se dovesse appiattirsi, statene certi, saremo i primi ad informarti. Noi ci crediamo. E voi? Rai Radio 1. La tua informazione sempre.